buonasera a tutti siamo live con ivan nosa ciao ivan benvenuto ciao paolo grazie di grazie di aver accettato il mio invito e di essere qui con noi perché è una serata a cui a cui tengo molto quindi grazie grazie davvero grazie a te paolo per avermi invitato mi ha invitato a parlare di gratitudine esatto di perdono quindi non posso essere grato a te esatto tra l'altro quando abbiamo parlato di gratitudine non l'abbiamo fatto qui in facebook quindi potrebbe essere anche un'idea carina fare un'altra piccola serata anche sulla gratitudine se tu sei d'accordo ma certo ma certo ma allora allora che è qualcosa che piace tanto tanto le persone assolutamente sì allora noi invitiamo subito gli amici in diretta e anche gli amici in differita li pre avvisiamo che insomma ci sarà anche un'altra serata dedicata alla gratitudine non l'avevamo non ne avevamo deciso l'abbiamo deciso ora quindi vi aspetteremo allora intanto stanno iniziando ad entrare le persone quindi diamo almeno un minuto di tempo perché tutti ricevono il messaggio la notifica così poi possiamo iniziare vedo anche tra i commenti delle persone guarda sono 22 si è il mio numero preferito resterà poco è questo 22 che sicuramente adesso crescerà ma fa niente è importante che io notti il 22 che io vedo il 22 quello quello senza altro il 22 è il numero con cui gli angeli comunicano con me bello interessante quando mi fanno vedere il 22 hanno sempre da dirmi qualcosa di bello interessante beh allora che che questa serata insomma porti non porti tanto benessere ecco a tutti quanti quello è porti benessere a tutti quanti allora 22 del 2 quindi la cosa allora per chi non conoscesse ivan ivan è un uno scrittore molto in gamba molto bravo e ha scritto un libro che si intitola il potere la magia del perdono trovate il link tra l'altro nelle poste di questo video in alto quindi più tardi appena è finita questa diretta vi invito ad andare a vedere il libro perché è certamente molto interessante soprattutto perché tratta di una tematica un po' spinosa nel senso che è una tematica importante dal punto di vista di crescita personale proprio dello sviluppo interiore di una persona io se se tu ivan sei d'accordo partirei perché comunque questo video è disponibile sempre benissimo allora intanto invito le persone a commentare quindi mettete il mi piace commentate condividete anche il video se lo ritenete interessante potete anche farlo subito durante la diretta i commenti sono importanti perché possono integrare il discorso che sta facendo ivan o il discorso che sto facendo io e soprattutto tramite commenti potete fare le domande quindi nessuna domanda è banale se avete qualcosa da chiedere a ivan siete in diretta quindi è ancora più bello fare le domande all'autore di un libro che è proprio per noi se invece siete indifferita va bene lo stesso ivan sarà taggato nei commenti in modo da ricevere le vostre domande e dopo sicuramente tu ivan rispondi vero come no perfetto sempre molto disponibile ma ragazzi siamo qua apposta quindi commentate fateci sapere ovviamente la vostra opinione oltre a quello che che ci dicono un po tutti quando parlano di questi argomenti e che è sicuramente importante io ci tengo sempre a dire che la vita è meravigliosa la vita è bella e porta sempre tante sorprese tante sorprese inaspettate che se siamo pronti ad accogliere cambiano la vita e te lo stavo proprio per dire io adesso siamo pronti ad accoglierla eh sì se siamo aperti alla vita la vita ci sorprende ne avevamo già parlato quando era uscito il libro della gratitudine ti avevo detto come mi avesse messo in contatto col mondo editoriale e poi con giovitale e che tutto questo mi aveva un po cambiato la vita avevo abbandonato il lavoro di prima e via dicendo e con il perdono è successa la stessa cosa quindi quando uscirà il terzo mi aspettavo di cambiare vita un'altra volta beh non c'è due senza tre il quarto viene da sé quindi in bocca al lupo mi auguro mi auguro che la tua creatività insomma che il tuo i tuoi messaggi non si interrompano perché i libri sono davvero ben scritti quindi sono parole sono parole che arrivano che arrivano diritte arrivano anche profondamente quindi io ti ringrazio cioè questo è il primo motivo per il quale ti ho voluto qui questa sera e sì grazie e questo me ne accorgo quando giro perché giro tanto adesso giro spesso parlo con tante persone e mi rendo conto che parlare al cuore delle persone è la cosa forse l'unica cosa di cui non ho bisogno e che serve oggi a loro e anche a me ovviamente perché poi è sempre un dialogo no quando quando giro presentare il mio libro e parlare di questi argomenti esatto esatto ma scusa io ti ho interrotto sì sì no niente stavo dicendo che mi è cambiata la vita ancora una volta perché questo libro mi ha portato un incontro molto molto importante in questo libro che ha richiesto più tempo ci ho messo un po di mesi a scriverlo rivederlo ricercare perché il perdono è comunque un argomento importante e che va nel profondo delle persone quindi avevo bisogno io in prima battuta di capire veramente cosa fosse ed è stato bellissimo perché in questo viaggio ho perdonato anch'io ho scoperto qualcosa che dovevo perdonare si è trasformato ed è stato bellissimo e in questa ricerca ho voluto ascoltare sentire parlare con persone che sapessero qualcosa più di me persone che potessero insegnarmi cos'era il perdono e portare un messaggio forte in questo libro oltre le mie parole volevo testimonianze che di fronte alle varie scuse delle persone per non perdonare chiudessero la bocca a tutti a me compreso perché spesso no diciamo si va bene dimentico non c'è problema ma non si perdona veramente non si va nel profondo infatti ci sono un sacco di falsi perdoni perché comunque siamo stati abituati a questa parola anche in modo sbagliato anche se sbagliato non è non è una parola giusta lo sappiamo si tende si tende a dimenticare si tende ad accantonare si tende a non guardare più ma questo non è perdono il perdono significa realmente trasformare qualcosa di brutto se vogliamo chiamarlo così che noi riteniamo brutto qualcosa che ci è accaduto una situazione una persona che ci ha trattato male qualsiasi cosa in amore e l'unico perdono è trasformare tutto in amore allora veramente avviene il perdono allora veramente trasformiamo il nemico in amico no qualcuno ce l'aveva detto tanti anni fa esatto esatto ma è questo il senso del perdono il senso del perdono non è va bene mi hai dato una sberla e io non ti odio non è questo senso del perdono mai dato una sberla io ti porgo l'altra guancia è molto più profondo il senso del perdono senso del perdono è il mio capo al lavoro mi ha fatto del male ma io capisco il suo percorso di vita capisco che possa averlo fatto per problematiche sue che poco importano ma che nella mia vita quel gesto e quella situazione sono arrivate per un determinato motivo mi sono servita qualcosa e un domani le vedrò con occhi diversi imparerò ad amare anche quel momento questo è il vero perdono e la parte più difficile nella scrittura di questo libro era parlare della sofferenza del dolore quindi riuscire poi a parlare di perdono le persone che avevano subito qualcosa di forte per noi perché sai noi magari perdoniamo la vicina di casa che ci fa gocciolare sul balcone piuttosto che va bene è importante anche quello però quando io mentre scrivevo il libro mi chiedevo nel momento in cui arriverà una persona e mi dirà non so hanno investito mio figlio l'hanno ucciso hanno sparato hanno ucciso hanno distrutto la mia famiglia mi hanno rubato non so come come posso io dire a queste persone che devono perdonare come posso farlo questo era il punto più difficile della scrittura di questo libro ed ecco che mi sono voluto rivolgere delle persone che avessero affrontato qualcosa di più grande ci puoi dire chi ci fai un nome un nome tutti e tre te li faccio a fare le storie da parte di queste tre donne poi meraviglioso perché sono tre donne e allora anche qui un'altra volta capiamo come il femminile è più portato l'accoglienza al perdono essere materno proprio in tutto quello che fa nella vita è più facile per una donna vivere il vero perdono più facile abbracciare più facile accogliere nasce già come creatura accogliente la donna il femminile no lo sappiamo per femminile anche noi e in tutti non è che sto facendo una distinzione queste tre donne sono una sister rosemary new room e questa meravigliosa suora ugandese che ha scritto tra l'altro l'introduzione del libro giusto esatto l'introduzione del libro e magari la lasciamo per ultima così poi racconta ok ok lei è una donna che ha salvato migliaia di vite dopo ve la racconto la seconda donna che ho voluto incontrare incontrare non l'ho incontrata ma ci siamo scritti e eva mendes cor eva cor che è una signora rumena che adesso vive negli stati uniti ebrea di origine ebreo ebrea e quando lei aveva sei anni la sua famiglia venne portata tutta completamente ad auschwitz lei entrata ad auschwitz lei aveva una sorella gemella questa sorella giù e tutte le volte che racconto queste storie mi emoziono mi commuovo perché hanno una forza io poi parlando con queste persone mi sono reso conto della potenza del perdono è una cosa dirompente quando lo vivi davvero cambia il mondo distrugge le energie è bellissimo e lei è stata è entrata ad auschwitz con la sorella gemella lei la sorellina sono state portate a sinistra il resto della famiglia a destra la mamma il papà fratello è un'altra sorella più grande da quel momento in poi lei non vedrà più la sua famiglia e quella l'ultima volta dove vede sua mamma dove vede suo papà e i fratelli lei la sorellina gemella vengono portate da dottor mengele che operava ad auschwitz il famoso dottore della morte angelo della morte come è stato poi soprannominato questo medico era incaricato di fare esperimenti per conto del reich e il soggetto preferito dei suoi esperimenti erano i gemelli perché poteva fare il test su uno e sull'altro e vedere le reazioni su due persone geneticamente identiche no quindi ecco che prende subito le due gemelline e la sua gemella queste subiscono per un paio danni ogni tipo di tortura di come si dice vengono le vengono iniettate di tutto e di più perché viene veramente sottoposto a ogni tipo di di prova di test di laboratorio quasi fosse una cavia riesce incredibilmente a sopravvivere e i gemelli che sono sopravvissuti a questo dottore sono veramente pochi riesce a sopravvivere lei la sua gemella fino al 45 46 quando poi lato viene dagli americani e c'è una bellissima foto in bianco e nero che si trova ancora su internet dove si vede lei con la sua gemellina a mano che escono da auschwitz e quando viene liberata ovviamente la sua famiglia non c'era più e si dovrà ricostruire una vita molti molti anni dopo in germania viene processato un ufficiale nazista siamo negli anni 80 viene chiamata anche lei a testimoniare come sopravvissuta di auschwitz con altri ebrei ovviamente tutti gli ebrei presenti accusano questo ufficiale ritenendolo responsabile di tutto il male subito eccetera eccetera lei compirà un gesto che è rimasto nella storia c'è anche un bellissimo documentario perdonati nazisti si chiama potete trovare sky lei alla fine del processo si alza va ed abbraccia questo ufficiale e abbraccia questo ufficiale gli sussurra qualcosa all'orecchio e questa foto farà il giro del mondo tutti i media la stampa ne parleranno e diventerà molto famoso questo gesto la comunità ebraica non era d'accordo con lei ma lei in ogni caso ha deciso di fare questo di molti anni dopo farà qualcosa di meraviglioso il figlio di un ufficiale nazista che poi è diventato suo figlio d'ottimo lei ora è 95 anni e anche questo gesto diventerà simbolo di perdono in germania ha fatto molto scalpore ora vive negli stati uniti si è risposata e felice ha deciso di dedicare la sua vita alla diffusione del perdono e di parlare di perdono per tutta la sua vita ha costruito anche un museo per ricordare l'orocausto e per insegnare il perdono e è straordinario quello che ha fatto lei io e lei poi ci siamo scritti è ancora lucida ancora in salute e mi ha detto l'ho parlato del mio libro del sul perdono l'ho parlato di quello che volevo trasmettere col mio libro e lei mi ha detto ivan sono pienamente d'accordo con te il risentimento al seme della guerra dell'odio il perdono è assieme della pace solo col perdono potremmo costruire la pace queste sono le parole poi le ultime che mi ha scritto e trovo il suo messaggio di una forza straordinaria e di fronte ad un perdono come suo io mi chiedo come possiamo noi a volte dire per me è difficile perdonare non dimenticarti paolo che queste persone che lei ha perdonato hanno ucciso la mamma il papà i fratelli sì io sono sono senza parole nel senso che ti ho lasciato parlare sono senza parole come sono sicuro che sono senza parole anche le persone che hanno ascoltato e di fronte a queste storie io volevo delle storie così volevo conoscere delle persone così perché per insegnare il perdono dobbiamo andare al punto più alto al punto più difficile non deve esserci una persona che durante i miei incontri le mie conferenze quando vado in giro a parlare certo capisco il dolore capisco che serve tempo capisco che sia difficile perdonare ma sono anche sicuro che si può perdonare qualcosa di molto grande di molto doloroso che ha veramente stravolto e delle nostre vite come successo eva eva mi disse le persone possono scegliere possono decidere se nella loro vita debbano portare delle catene per tutta la vita oppure essere libere e cambiare io mi ha detto io ho deciso di cambiare malgrado il male che mi hanno fatto che ho subito io non volevo portarmi questo peso questo rancore queste catene come dice lei per tutta la vita quindi il perdono sostanzialmente libera noi stessi possiamo dire così il perdono permette alle persone di prendere la loro vita in mano e di viverla da un altro da un'altra prospettiva c'è una storiellina che racconta nel mio libro che dice che si chiama lo zainetto della vita io racconto anche delle storie nei libri e l'ho voluto chiamare lo zainetto della vita e parla di questa bambina che ha questo zainetto e la nonna le insegna che anche se in questo zainetto tutti noi le tutti noi abbiamo uno zainetto nella vita sulle spalle in questo zainetto ci sono tutti i nostri dolori le nostre sofferenze il sentimento il biasimo i ricordi negativi ma questo zainetto quando tu la mattina esci di casa è lì vicino alla porta tu puoi decidere se prenderlo uscire e camminare curva per tutto il giorno scolpeso di questo zainetto o può invece decidere di aprire la porta sorridere e lasciarlo lì e e questo è proprio il senso del perdono il male che abbiamo subito lo so che è molto difficile mi hanno scritto diverse persone lo so che a volte sembra insuperabile e imperdonabile ma non è così e nel momento in cui perdoniamo la vita diventa più leggera più luminosa iniziamo camminare in modo diverso iniziamo respirare in modo diverso l'altra ragazza di cui ho voluto raccontare la storia è una ragazza italiana che si chiama laura e mi aveva scritto mentre scrivevo un libro poi è bellissimo perché quando scrivi e cerchi ispirazione l'universo ti porta dio ti porta tutto quello di cui bisogno basta che stare attenti no pensa che quella la storia di eva che ho raccontato prima io cercavo un'ispirazione forte è un certo punto accendo sky e parte sto documentario e alla fine del documentario ho detto io devo conoscere quella donna lì e le sincronicità insomma bisogna saperle cogliere effettivamente è incredibile è incredibile come quando ci apriamo ci arrivano cose meravigliose è bellissimo e e questa ragazza mentre stavo scrivendo un libro mi scrive questa ragazza che durante il terremoto di norcia di quanti pochi anni fa di notte la terra trema lei deve scappare di fretta fuori di casa e perde tutto quello che ha in una notte improvvisamente lei perde tutto quello che ha immaginatevi cosa vuol dire tutti i ricordi tutto quello che aveva messo da parte tutto quello che aveva costruito la casa che magari aveva pagato che aveva no con fatica perde tutto quello che ha in un attimo la terra trema e ti toglie tutto e e laura mi scrive e mi dice ma io non sono arrabbiata io amo la mia terra talmente tanto che l'amore per la mia terra è più forte del rancore che posso provare per il male che mi ha fatto io sono sicura che tornerò e ricostruirò ed è bellissimo perché ti rendi conto di come queste cause esterne a cui spesso diamo la colpa della nostra sofferenza possono essere superate lei avrebbe potuto passare la vita dando la colpa al terremoto di ogni sua sofferenza di ogni suo momento triste di ogni sua lei dice no sì è vero madre terra mi ha fatto un dispetto ma probabilmente due insegnarmi qualcosa io tornerò ricostruirò io tornerò riprenderò la mia casa la riprenderò ricostruirò perché non c'era più e di fronte a messaggi come queste storie come queste che poi me ne sono arrivate altre no quando è uscito un libro quando ho cominciato a parlare di perdono di fronte a storie come queste io dico sempre a questo punto guardatevi guardatevi un attimo allo specchio guardatevi dentro datevi un bacio abbracciatevi perché siete belli bellissimi e chiedetevi se veramente non potete perdonare se è vero che quella cosa che dovete perdonare è impossibile da perdonare o è una scusa tra l'altro Ivan c'è un commento che desidero far vedere che è una domanda che secondo me rappresenta la domanda adesso te lo te lo posto se mi metti in difficoltà chiudo la chiudo la diretta no no te l'avrò fatto un miliardo di volte comunque è la domanda probabilmente la puoi vedere in sovraimpressione la domanda di Francesca allora chiede come si fa a perdonare se stessi che tesoro e ciao Francesca allora è bellissimo sai che questo è il capitolo finale del mio libro guarda adesso vedi che alla fine arriviamo no allo stesso punto e allora ti faccio vedere un capitolo del mio libro lo lupite a leggere si legge Paolo sì a volte ti va via un attimo la connessione quindi gracchi un attimino comunque sì si vede il segreto del perdono perdona te stesso il segreto del perdono perdona te stesso ok sì si vede è proprio il capitolo che ho voluto lasciare alla fine del libro perché quello è il perdono più grande quello è il perdono più importante si può perdonare se stessi amando 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 imparando ad amare se stessi ma magari ci torniamo alla fine su questa frase e su questa conclusione perché è veramente la fine del percorso e la domanda di Francesca sì sì esatto cade a fagiolo perché guarda Francesca il terzo esempio che volevo portarvi è proprio riferito a questa domanda ecco anche grazie a questo esempio ho capito che il perdono più grande è quello verso se stessi perché se poi guardiamo bene Paolo se ci guardiamo bene tutto quello che noi abbiamo fatto nella vita e tutto quello che gli altri ci hanno fatto nella vita o perlomeno noi lo percepiamo no come qualcosa che ci viene fatto senza renderci conto che siamo sempre noi tutto quello che ci accade quello che ci viene fatto quello che noi facciamo noi stessi è tutto amore lo capiamo col tempo quando ne acquisiamo consapevolezza quando guardiamo l'esperienza con anni di distanza ma ogni anima è qui per compiere un percorso e in questo percorso sono comprese anche le cadute sono comprese anche i gesti che sembrano incomprensibili sono comprese anche la violenza sono soprattutto sono soprattutto comprese proprio quelle cose qua non esisterebbe l'amore se non esistesse il non amore non esisterebbe la pace se non esistesse la guerra capisci che tutto il mondo è in equilibrio noi ora stiamo tutti lavorando per arrivare a una a un'umanità che sia di luce e di amore quello il destino del pianeta ma ma non possiamo arrivare lì pensando che la sofferenza il dolore la violenza non debbano esistere perché sono proprio questi lati che poi ci permettono di conoscere l'amore è la sofferenza che mi ha permesso di conoscere la gioia se io non avessi sofferto nella vita non sarei mai arrivato al punto in cui ho conosciuto la gioia conosciuta davvero nel lavoro che faccio nelle mie giornate io la vedo la gioia la sento la tocco ma ho sofferto anch'io nella vita tanto e tutti tutti abbiamo indietro certo e oggi guardandomi indietro certo perché poi è anche percepita no la sofferenza non tutti abbiamo subito quello che ha subito eva nel campo di concentramento ma per noi quello che ci è successo è una cosa drammaticissima certo è quello che succedono a noi no ti fermo un secondo ivan perché va proprio un attimo è solo una comunicazione tecnica da conduttore c'è un commento molto interessante di di ada che se online se ancora online invito a riformulare la domanda in in un modo un po più preciso in modo tale poi da da porla a te ivan ecco tutto qua vai pure avanti grazie allora stavamo dicendo che un dottore un medico quando deve curare una malattia cosa fa cosa fa per poterla curare deve poterla vedere deve trovare la malattia scoprirla e poterla vedere poterla analizzare non potremmo curare nulla se non se questa cosa non la vediamo allo stesso mondo allo stesso modo non potremmo portare la nostra vita verso la luce se non vediamo la sofferenza dobbiamo vederla deve far parte della nostra vita che più e chi meno e una volta vista e una volta vista scompare è meraviglioso e si accetta scompare quella sofferenza può arrivarne ancora se la vita vuole darti un'altra lezione te la da se devi imparare qualcos'altro che non ho ancora capito bene te lo ripete allora a questo proposito capita secondo me un commento proprio guarda e te lo te lo faccio vedere ivan eccolo quindi non so se riesci a leggerlo ivan sì quindi per chi non riuscisse a leggere lo leggo ringrazio mariella che spero speriamo di aiutare non riesco a perdonare il male gratuito fatto verso gli indifesi gli emarginati del mondo gli animali il male fatto a me me lo faccio scivolare addosso ma le barbarie la crudeltà mi fanno mandare mandare maledizioni questo è un è un punto importante secondo me del commento che devo fare chiede mariella mariella è guarda è è importante quello che dice molto è qualcosa che sentiamo tutti e a questo punto non posso che raccontare la storia della terza donna perché si ricollega la domanda di francesca di prima ma anche a questa ascoltiamo la storia il perdono verso se stessi però ecco mariella mariella ricordati che noi noi se tu sei qui con me è perché vogliamo costruire un mondo d'amore e questo mondo d'amore lo costruiamo solo diffondendo amore solo diffondendo luce solo diffondendo abbracci solo solo trasformando il nemico in amico allora queste persone che tu non sopporti non mandare maledizioni prega per loro medita per loro puoi fare tante cose belle così queste persone cambieranno riuscirai a trasformarle non c'è bisogno che vai le prendi a sberle basta creare un'energia d'amore nel mondo più queste energie si crea più le persone cambiano questa donna di cui volevo parlarvi che esiste rosemary è una storia ugandese una storia ugandese che ha scritto l'introduzione al mio libro tra l'altro un'introduzione beve un goccio d'acqua arrivata in modo miracoloso io ero quasi in chiusura del mio libro e l'ho conosciuta una settimana prima che tutto questo che il libro si chiudesse non avevo l'introduzione non sapevo chi chiederla volevo una persona forte che entrasse nel libro e portasse un messaggio prorompente doveva distruggere tutto doveva portare un'energia meravigliosa e non sapevo chi chiederlo non sapevo cosa fare volevo e a un certo punto i miei angeli mi hanno detto poi ognuno i propri collegamenti no no ma è vero c'è chi parla con gli angeli io ho una persona con cui parlo insomma che a volte mi apre dei canali e così questa persona questa situazione questo angelo mi disse stai tranquillo la tua introduzione in arrivo sarà una sua ora e presto entrerà nella tua vita e mancava dieci giorni a chiudere il libro io ero un po nel panico dovevo consegnarlo l'editore per essere stampato e io mi chiedevo ma io non conosco nessuna suora cioè si conoscevo qualche suora ma non così come le volessi allora mi sono messo a cercare in internet e mi usciva ogni volta che io digitavo in google suore perdono queste cose ogni volta mi usciva questo bellissimo faccione di questa suora ugandese con in mano questi bambini meravigliosi con in braccio questi bambini una volta due tre che cerco su google alla quarta di comandiamo un email forse no insomma questa suora nel frattempo è diventata molto famosa perché era diventata eroe dell'anno per la sien in america però e e nel 2007 poi nel 2011 o 12 era diventa era stata messa dalla rivista time tra le 100 persone più influenti al mondo l'unica cattolica insieme al papa per dirti il livello di fama che aveva raggiunto io mi dissi non non mi risponderà mai inutile che scrivo questa donna perché insieme per in giro per il mondo conferenze qua di là di su di giù scrissi un'email con tanta fiducia qualche volta parleremo anche di fiducia nella vita no che si lega alla legge l'attrazione a tutto quanto può portare miracoli velocemente tanta tanta fede tanta fiducia tanta gioia tanta gioia nell'esprimere i desideri portano risultati meravigliosi e dopo due giorni io scrivo a questa persona che cura no gli appuntamenti il sito di questa sora mi risponde questa direttamente la sora e mi dà il numero di cellulare mi dice chiamami mi piacerebbe parlare del tuo libro del perdono bene io la chiamo e dopo due giorni dopo la chiamo dopo due giorni da quando ho mandato primo email già lì mi sembrava una cosa incredibile che avesse il numero facciamo una chiacchierata sul perdono una bella chiacchierata al telefono lei entusiasta del mio libro contenta anche che le chieda un'introduzione per il libro le chiedo della sua storia della guerra in uganda di come ha salvato tante vite e alla fine dico sora ma mi scusi ma lei dov'è io pensavo fosse che ne so in america perché sempre veramente sempre in giro se andate a vedere dall'altra parte del mondo pensavi che fosse tante conferenze e lei mi dice ivan sono verona questa settimana e io dico porca miseria sora e domani cosa fa e dopo le tre sono libera ecco va bene sora io domani sarò da lei e così ci siamo conosciuti ecco i miracoli della vita no questa vita questa sora non posso nemmeno dire che sia entrata in punta di piedi nella mia vita perché poi quando l'ho incontrata a verona ci siamo corsi incontri ci siamo abbracciati come se ci conoscessimo da cent'anni ma sai sai quegli incontri di anime meravigliosi che ci sembra di conoscerti da una vita e ci siamo abbracciati forti siamo diventati amici subito abbiamo parlato di gratitudine e di perdono lei mi ha raccontato di quello che fa e la sua storia è diventata molto famosa perché in uganda fino a dieci anni fa c'era una guerriglia molto violenta c'era un ribellino un ribellino nome coni che con questo esercito di liberazione del signore come l'aveva chiamato lui diffondeva terrore violenza nel nord dell'uganda non dove c'è campala dall'altra parte si nascondevano nella foresta di notte andavano nei villaggi rubavano uccidevano e rapivano le ragazzine rapivano tante ragazzine che poi ovviamente abusavano violentavano e trasformavano i ragazzi soldato quindi poi mandavano loro nei villaggi di notte a sparare tutte queste ragazze sono state obbligate e attenzione perché chi di loro non si ribellava veniva mutilata veniva tagliata se parlavano le tagliavano le labbra tagliavano le mani se facevano qualcosa era una violenza estrema che nemmeno possiamo immaginare noi alla fine della guerriglia finalmente l'esercito grandese riesce a sconfiggere questi ribelli finisce la guerriglia in uganda e parlo di dieci anni fa quindi non molto tempo fa migliaia di morti rimangono in uganda e rimangono tutte queste ragazze che vengono liberate molte ferite mutilate nel fisico e tutte diciamo ferite nell'anima per quello che avevano subito molte di loro incinta ovviamente qualcuna già aveva avuto uno due figli durante la guerriglia nessuno le vuole più accogliere nemmeno le loro famiglie nessuno le vuole più accogliere perché loro da ragazze soldato erano andate nei villaggi a sparare erano andate nei villaggi a sparare alle loro stesse famiglie quindi molte di loro avevano ma erano talmente condizionate psicologicamente che non potevano ribellarsi quindi molte di loro avevano persino ucciso i propri fratelli la mamma il padre i parenti gli abitanti del loro villaggio e via dicendo quindi alla fine della guerriglia nessuno le vuole più perché le loro famiglie dicevano voi siete venute qui a sparare avete ucciso i membri della nostra famiglia nessuno le vuole più quello che fa sister rosemary che aveva una piccola comunità di santa monica lì a gulu e iniziare ad accogliere tutte queste ragazze che nessuno vuole più accoglie queste ragazze insegna loro a cucire creano delle borse bellissime che potete vedere anche su internet fatte con gli scarti delle lattine della Coca-Cola che è l'unica cosa che potevano trovare per o delle lattine in genere insomma e insegna pian piano tutto è un mestiere pian piano ridà tutta una dignità poi apre anche una scuola di cucina molto insegna a far la cuoca trova lavoro negli alberghi nei ristoranti e riesce a salvare quasi 2500 ragazze e a ridare a loro una vita ecco perché lei è diventata così famosa che erano le ragazze che non voleva più nessuno alcune sono ancora lì e iniziamo a parlare di perdono e la sora mi dice e qui mi ricollego la domanda di Mariella e di Francesca la sora mi dice Ivan la cosa più difficile è stato insegnare a queste ragazze a perdonare se stesse perché loro visto quello che avevano fatto pensavano che nessuno le avrebbe mai perdonate lei lo scrive nell'introduzione al mio libro la sora scrive le parole esatte che poi qualcuno magari leggerà lei dice io ho dovuto insegnare a queste ragazze che non avevano bisogno di nessun perdono che loro erano già state perdonate già dalla nascita per qualsiasi cosa avessero fatto e che dovevano ricominciare a guardarsi allo specchio e a volersi bene e non avevano bisogno di umiliarsi non avevano bisogno di nulla e la sora mi dice sempre quando le ragazze hanno iniziato a perdonare se stesse sono cambiate completamente io le ho viste rifiorire sono cambiate non solo dentro ma anche fuori sono cambiate fisicamente sono rinate sono diventate donne nuove ecco la potenza del perdono dove ti cambia completamente dentro e fuori cambi viso quando perdoni assolutamente sì questo l'ho potuto verificare anch'io di persona quindi e la sora a quel punto mi dice Ivan hai scritto un libro sul perdono vieni in Uganda con me facciamo insieme un pezzettino del cammino del perdono stiamo arrivando all'orfanotrofio ed è bellissima questa cosa che mi dice perché mi dice vieni con me facciamo insieme un pezzettino del cammino del perdono perché lei mi dice guarda che il perdono è un cammino non è un gesto è un cammino che compi tutta la vita siamo in cammino verso il perdono e io ho detto va bene suora ho posto una clausola ad essere sincero ho detto suora se vabbè tu hai letto il mio primo libro quindi conosci la mia storia però io ho detto suora va bene io vengo se lei mi promette che mi fa lavorare con gli orfanelli e lei mi dice Ivan stiamo costruendo un orfanotrofio nuovo vieni ti farò lavorare con gli orfanelli e lì abbiamo fatto fantastico ed era qualcosa che io aspettavo da 50 anni aspettavo veramente da 50 anni l'occasione di lavorare con gli orfanelli e di fare qualcosa ed ecco che è arrivato sono andato in Uganda e quindi ecco che la mia vita ecco perché dicevo prima che la mia vita è cambiata io tre mesi fa ero in Uganda e ci sono rimasto un po' quest'estate arrivato in Uganda lei mi dice Ivan sì hai visto che bella la mia comunità qui abbiamo le ragazze che imparano a cucire a cucinare abbiamo l'ambulatorio il ristorante la scuola però mi dice però a un'ora da qua stiamo costruendo un orfanotrofio nuovo mi dice quando ho preso i soldi sono diventate eroe dell'anno la CNN mi ha dato 25 mila dollari era il premio e io ho comprato un grosso terreno in questa parte sperduta dell'Uganda dove c'è molto bisogno ancora più a nord di qua vicino al confine con il Sudan che anche lì la situazione la situazione lì non è tra l'altro esatto il sud Sudan è guerra è guerra esatto e lei mi dice senti io ho comprato questo terreno ho trovato un donatore americano stiamo costruendo un orfanotrofio le spese per tutte le casette sono pronte saranno 10 casette però mi serve qualcuno che mi aiuti a eccomi mi dice ospiteremo 80 bambini quando sarà completato avremo 80 posti però non so chi rivolgermi non so cosa fare sono molto preoccupata perché dovremo dare da mangiare questi 80 bambini comprare le medicine mandarli a scuola e via dicendo e mi guarda e mi dice Ivan devi farlo tu bene dico io va bene sembra facile no? ti dico una cosa così e dici va bene e così ho passato le mie giornate andavamo a trovare questi bambini è un orfanotrofio meraviglioso mi commuovo ogni volta che ne parla ecco io vi invito ad andare a guardare le foto perché Ivan ha postato tantissime foto vi invito a andarle a vedere tante foto del mio viaggio di questi bambini meravigliosi adesso ce ne erano 16 però a fine ottobre inizio novembre l'orfanotrofio è completato e quindi ne accoglieranno fino a 90 lo sento un po' come una mia seconda casa ormai ho deciso di prendermene cura ma ma questo non è qualcosa che io sto facendo perché voglio no? aiutare chi sta peggio di me perché loro fondamentalmente stanno meglio di me sono più felici di noi non hanno niente ma questi ridono sempre eh lo so mi davano una gioia incredibile era bellissimo stare con loro mi volevano bene mi chiamavano tutti zio era bellissimo guarda Ivan le assistenti no? guarda Ivan lo so lo so perché come ti dicevo anche io a livello familiare siamo molto vicini all'Uganda tu sai che ho uno zio giù a Kampala che sta cercando di ha portato il circo in Uganda quindi senza animali ovviamente lavorano nelle scuole una volta farò venire tuo zio l'orfanotrofio ma volentieri poi ti darò ti darò il contatto adesso sabato sarebbe bellissimo fare sarebbe bellissimo fare questa cosa ecco lui mi racconta quello che mi racconti tu quindi che non hanno niente ma sono felici esatto le risate che facevo io qui non ridiamo in questo modo la ridono proprio con gusto e ti assicuro che i bambini dell'orfanotrofio mangiano riso e fagioli tutti i giorni e poi andavamo a fare la spesa la mattina gli compravi un lecca-lecca e questi erano felici per 24 ore lo facevano durare ore questo lecca-lecca era bellissimo e posso far vedere una foto? certo ci mancherebbe questi li ho fotografati poi li ho messi tutti in cima alla scuola bravo si vede sì ok bravo eccoli qua i miei angioletti come li abbiamo poi chiamati sono bellissimi sono e vediamo aspetta lo so che sto divagando ma quando parlo no non ti preoccupare ma ci mancherebbe anzi sono messaggi che stanno anche la divisa quando vanno a scuola tutta rossa quello lì col cappellino sono io quella è l'assistente Irina bravissima che sta con loro tutto il giorno 24 ore quella è l'altra assistente cieca perché hanno due assistenti in modo che ci sia sempre qualcuno 24 ore con loro e hanno queste casette meravigliose sembra un villaggio vacanze perché l'ha pagato questo donatore adesso c'è bisogno però è stato meraviglioso perché tanta gente mi ha scritto e sta aiutando e si è creato veramente un bel alcuni hanno inviato cose alcuni hanno diffuso la notizia ne ha parlato persino Corriere della Sera ah perfetto sì il Corriere è molto molto attento anche con anche col circo l'ICAP circo su Ganta di mio zio il Corriere ha fatto un articolo sono stati anche a Milano sì sono molto aperti come quotidiano devo dire di sì ma questo adesso non è che lo sto raccontando per fare una serata sulla beneficenza ma no 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 per carità è la tua storia è la tua storia come il perdono ti ha portato a tutto questo come il mio cammino del perdono io dovevo perdonare dovevo perdonare e l'ho capito dopo qualcosa di forte poi nel libro c'è scritto ma mi ha portato lì dovevo arrivare lì per fare il mio cammino del perdono dovevo aprirmi alla vita e accogliere quello che arrivava dovevo fare sto viaggio massacrante che non si arriva più per arrivare lì e conoscere questa realtà conoscere loro conoscere l'amore che danno loro conoscere la gioia che si prova anche nell'aiutarli ecco il perdono poi dove si è realizzato ecco il cammino dove mi ha portato certo 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 è sicuramente una storia incredibile Francesca diceva perdonare se stessi sì quello che ora mi dice sempre loro queste ragazze il loro problema grande era perdonare se stesse ma io ho dovuto far compiere a loro un cammino di 4-5 anni perché riuscissero a capire stando tutti i giorni vicino a loro parlando dicendo a loro che non hanno bisogno di essere perdonate loro ovviamente sono cattolici parlano di Dio ma lei dice Dio li ha perdonate già da quando non hanno bisogno del perdono sono già perdonate sono già amate e siamo amati anche nei nostri errori soprattutto nei nostri errori perché noi siamo qui per portare anche dei pesi in questa vita per fare delle esperienze e se facciamo degli errori è perché la nostra incarnazione ci porta a portare questi pesi è una missione che stiamo facendo come possiamo non essere perdonati e allora se il cielo ci perdona io l'ho chiamato così nel libro ho detto il cielo ci perdona perché non ci dobbiamo perdonare noi è ovvio che il mondo ci ha già perdonato è ovvio che il mondo va avanti io sono riuscito a perdonare devi dirmi qualcosa? no vai pure vai pure io sono riuscito a perdonare quello che mi è accaduto da piccolino non quando l'ho perdonato e quando ho detto sì io non ho rancore nei confronti di no adesso non voglio entrare nella storia ma sono riuscito a perdonare quello sì era un passaggio era parte di questo cammino ma io ho perdonato davvero quando ho capito che quel gesto era un gesto d'amore quel gesto che io allora vedevo come un gesto drammatico di sofferenza di violenza di abbandono nei miei confronti in realtà era un gesto d'amore perché quella persona mi ha donato la vita e quindi per me quella persona ha rappresentato amore mi ha fatto un dono immenso allora cerchiamo di guardare la realtà anche da un altro punto di vista cerchiamo di guardare anche le cose che ci fanno soffrire da un altro punto di vista perché un altro punto di vista c'è sempre c'è sempre mio marito mi ha lasciato io non lo perdonerò mai ogni tanto mi arrivano questi messaggi scusa Ivan ti fermo un attimo perché voglio voglio chiarire una cosa assolutamente mostro mostro il commento perché forse non si è capito a quanto pare il perché tu hai parlato di Africa anche io ho parlato di Africa qualcuno non ha forse ben chiaro il perché glielo rispieghiamo non è forse non ha seguito il discorso ma credo di sì perché credo di sì però attenzione noi stiamo facendo questo discorso semplicemente perché Ivan sta raccontando la sua storia e di come il percorso che lui ha fatto sul perdono che è suo personale soggettivo e di nessun altro lo ha portato a fare queste esperienze certo che tutti noi non dobbiamo andare in Africa per carità ognuno ha il suo percorso ed è importante intraprenderlo però questo percorso quindi adesso io ho mostrato il commento di Ada che poi ha anche fatto una domanda interessante che tra poco Ivan ti posto quindi tra poco ti posterò la sua domanda perché me l'ha chiarita Ada scusa se posso precisare quello è il percorso mio ed è un esempio di un cammino di perdono ma ognuno fa il suo la Eva che ho raccontato prima non ha dovuto andare in Africa per perdonare i nazisti la Laura quella a cui il terremoto ha tolto la casa non ha dovuto andare in Africa nessuno di noi ha mai detto che si deve andare in Africa per perdonare io ho solo raccontato dove questo libro e questo cammino ha portato me e come ha cambiato me per fare un esempio per raccontare una storia vera ma a prescindere dal fatto che se mi avessero invitato in un orfanotrofio a Legnano o in Ucraina ero uguale non è una questione di Africa io avevo bisogno di fare quel percorso lì e l'ho fatto ma guarda che io ero sul cammino del perdono ci provavo perlomeno anche prima di tutto questo e non avrei mai immaginato fino a 7-8 mesi fa che io sarei andato in Uganda e che avrei conosciuto della gente là cioè non pensavo all'Africa come obiettivo della mia vita è arrivato tutto così improvvisamente ma va bene l'ho accolto l'ho vissuto è stato bello tra l'altro Ivan se sei d'accordo io mostrerei anche la domanda di Ada perché è interessante eccola qua l'avevo chiesto di riformularla e l'ha riformulata molto bene quindi si parla spesso di perdonare prima se stessi qui facciamo un attimino un passo indietro con la risposta ma bisogna capire bene perdonare se stessi vorrebbe dire sentirsi in colpa verso qualcosa o qualcuno per aver fatto un torto sì sì non parlare solo della tua situazione Ada ti assicuro che ci sono molte persone che vivono con tanti sensi di colpa assolutamente sì c'è pieno di persone che vive la propria vita con sensi di colpa può non essere il caso tuo ma ne abbiamo spesso certo che ci sentiamo in colpa per un sacco di cose per non essere stati vicino a una persona per non avere fatto di più al lavoro per non aver fatto meglio perché potevamo fare questo potevamo fare quello ovviamente tutte cose che poi le analizzi e dici ma no è giusto così ho fatto quello che dovevo fare ho fatto quello che ho potuto ho fatto il meglio di quello che potevo ma quante persone io ho conosciuto in questo percorso del perdono che si sentono in colpa non sono stati vicino a mio padre a mia madre io le sento queste storie molto spesso c'è anche da dire Ivan è una cosa importante che nel momento in cui io perdono ma poi mi sento in colpa per questo per quell'altro non è un vero perdono quindi in realtà non sono perdonato ma poi viene prima quando tu noti un senso di colpa esatto viene prima certo viene prima devi fare un passo un passo di amore di serenità verso te stesso di comprensione di compassione non siamo dei supereroi nessuno di noi è perfetto nessuno di noi passerà da questa vita facendo tutto tutto alla perfezione tutto ma assolutamente no sono cose che ci mettiamo in mente da soli e che ci creano dei sensi di colpa ma il tempo che io ho dedicato a una persona magari non mi sembra abbastanza ma è quello che potevo fare in quel momento e non mi devo sentire in colpa verso quella situazione lì ho fatto del mio meglio ho fatto del mio meglio con la mia storia le mie possibilità assolutamente sì ho fatto quello che era giusto in quel momento se io ho seguito mio padre anziano malato in un certo modo so che avrei potuto fare di più ho fatto quello che potevo certo una parte di me mi dice potevi fare di più cavoli però potevi stare due sere in più con lui ma poi mi guardo e dico Ivan hai fatto quello che potevi avevi tante cose da fare e hai cercato di gestire tutto il meglio per quello che erano le tue possibilità ma è un attimo far nascere in noi i sensi di colpa guarda che c'è pieno di gente con sensi di colpa ah beh assolutamente sì assolutamente la vita delle persone i sensi di colpa però se quelle ragazze sono riuscite a perdonare se stesse se vogliamo usare questo termine perché è al punto in cui hanno perdonato il fatto di aver ucciso il loro fratello le persone del villaggio eccetera anche noi possiamo perdonarci quello che abbiamo fatto e che ci sembra non vada bene perché poi non è vero poi più avanti capiremo che va bene che abbiamo fatto quello che potevamo fare che dovevamo fare che era tutto un percorso voluto anche dalla nostra anima hai altre domande Paolo rido perché sì ce ne sarebbero tante di domande ovviamente però io credo che la storia che hai raccontato abbia risposto in modo abbia anticipato le risposte a un sacco di domande io ognuno di noi poi nella vita si trova a scontrarsi io no il perdono io mi rendo conto che le persone il perdono più grande per le persone per quello che ho sentito io per le persone che ho conosciuto per le ricerche che ho fatto e ci ho messo tanto impegno a scrivere questo libro è stato è quello di perdonare se stesse quello è l'ostacolo più grande però nel mio caso ad esempio non è stato così io dovevo perdonare qualcosa che mi era successo io dovevo perdonare una cosa che mi è successa da piccolino e ci ho messo 40 anni ecco che allora capisci come non è facile perdonare assolutamente ma ho perdonato solo nel momento in cui ho trasformato quell'abbandono in amore quindi la parola che possiamo la parola chiave può essere trasmutazione certo solo quando trasformi quello che ti è accaduto quello che ti ha fatto male quello cui dai la colpa quello che c'è dentro di te che ti fa male solo quando riesci a vedere l'amore anche in quel gesto lì anche in quella situazione lì riesci a perdonare e quella cosa si dissolve non ti fa più male è bellissimo è bellissimo perché vedi l'amore in questa cosa io nell'abbandono che ho subito io vedo l'amore adesso questa cosa magari la racconto in modo più non voglio adesso fare lo strappalacrime però la vedo la vedo come un gesto d'amore adesso ci ho messo 40 anni 42 43 a capirlo ma nel momento in cui ho visto l'amore che c'era in quell'abbandono per me non è più stato doloroso non ci penso più e se lo penso lo penso con gioia e dico pensa che meraviglia no? ti sei liberato hai certo ecco cosa vuol dire hai rotto le catene ecco cosa vuol dire trasformare il piombo in oro esatto ecco vuol dire compiere 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 un gesto anche certo nessuno dice nessuno dice che è facile ovviamente nessuno dice che è semplice nemico in amico ce l'hanno detto in mille modi ma non lo capiamo ecco io stavo dicendo Ivan che è vero che non è facile non è nemmeno semplice però bisogna iniziare ma certo bisogna iniziare ma poi siamo noi che decidiamo per quanti anni ci dobbiamo portare una sofferenza sulle spalle guarda che alla fine siamo noi sì 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 siamo noi che decidiamo se quella donna deve venire sai quale donna adesso lo spiego c'erano due ti racconto una storiellina che secondo me si adatta bene al discorso del perdono qualcuno magari già la conoscerà c'erano due donne due scusami c'erano due monaci che stavano rientrando al tempio questa la conosco ed è molto molto bella l'ho già raccontata questi due monaci per arrivare al tempio devono attraversare un fiume arrivati al fiume aspettano si mettono in attesa del traghetto per attraversare il fiume si mettono in attesa del traghetto e il traghetto non arriva aspettano aspettano ma il traghetto non arriva notano che vicino a loro c'è anche una donna che sta aspettando di attraversare e aspetta anche lei il traghetto il tempo passa e il traghetto non arriva i due monaci devono rientrare al tempio prima di notte e quindi dicono troviamo una soluzione attraversiamo questo fiume in qualche modo allora cercano il punto più basso e decidono di attraversare il fiume a piedi prima di fare questo però uno dei due monaci va prende la donna in braccio e la porta dall'altra parte del fiume l'aiuta a attraversare il fiume arrivati dall'altra parte del fiume si incamminano verso il tempio ci sono ancora due tre ore di cammino arrivati vicino al tempio uno dei due monaci quello che aveva sollevato la donna dice all'altro ma cosa ti è successo in tutto questo percorso perché ti vedo cupo ti vedo triste non hai più detto una parola come mai sei cambiato e l'altro dice scusa guarda ma ti devo proprio dire una cosa prima che entriamo al tempio ti devo dire una cosa quello che tu hai fatto prima non va bene tu hai preso una donna in braccio e sai benissimo che noi monaci non possiamo sollevare prendere in braccio le donne e hai fatto una cosa che non si doveva fare proprio non dovevi farla è contrario alla nostra regola e allora il monaco che aveva aiutato la donna lo guarda e dice sì hai ragione io ho fatto una cosa che non dovevo fare ma io quella donna l'ho lasciata quando ho attraversato il fiume tu la stai ancora portando con te questo è il senso esatto del bene che fa il perdono e che può fare il perdono nelle nostre vite siamo noi che decidiamo alla fine quanto portare quella donna è vero che non è facile perdonare ma se ci mettiamo in cammino pian piano il perdono lo incontriamo se ci mettiamo in cammino il perdono lo incontriamo e prima o poi quella donna la lasceremo cadere cadere la lasciamo la lasceremo andare altrimenti ce la porteremo sulle spalle per tutta la vita questi sono i sensi di colpa questi sono i rancori questi sono i risentimenti tutte quelle cose che ci portiamo addosso l'importante è mettersi in cammino e per tutte quelle storie che io ho sentito e quello che ho vissuto su di me e anche tutto quello che ho ascoltato in Uganda vi assicuro che chi si mette in cammino è già quasi arrivato poi tutto accade è il passo più importante sì sì poi l'amore arriva la gioia la trasformazione se c'è qualche domanda ancora vedi tu sì allora io Ivan intanto inizio già a ringraziarti sì allora c'è un commento interessante te lo mostro perché è arrivato proprio adesso è un commento di Franca che ci dice ora voi siete così semplici no non siamo semplici assolutamente una volta feriti e riferiti come si fa ditemelo voi noi non siamo semplici lo abbiamo appena detto giusto Ivan cara Franca che bella signora sai sì molto bella grazie Franca grazie dell'input Franca magari un giorno parliamo se vuoi sai quante cose ho passato anch'io e ferito e riferito ma la vita è bella e si trova la gioia sempre e comunque lo so ci vuole impegno lo so ci vuole sforzo lo so che ci vuole a volte sembra impossibile lo so ma poi col tempo le cose dai quando ci mettiamo in cammino pian piano le vediamo con occhi diversi vediamo veramente trasformarsi le cose perché tu continui a permettere a quella persona di ferirti ad esempio questo dovresti chiedertelo però è la stessa persona che ti ferisce diverse volte è la vita che sempre ti colpisce e ti fa male chi è il colpevole di tutto questo questa è una domanda interessante perché sarebbe interessante capire dove tu trovi il colpevole di quello che ti accade ecco sono certo che hai attivato sicuramente un processo di e sì io non so se Ivan tu riesci adesso nel live a vedere i commenti però eh no non li vedo non so cosa devo fare non ti preoccupare sono qui apposta io oggi sono qui apposta è conferma Franca conferma sì effettivamente è come hai detto tu sì lo so quindi io invito Franca a se io non sei d'accordo a scrivere adesso mi prenderanno per sempliciotto ma sai cosa serve Franca però la vita è semplice non è complicata sai cosa serve tanti abbracci abbraccia la tua amica abbraccia la persona a cui vuoi bene guarda l'abbraccio ha un potere terapeutico straordinario è vero quando ci incontriamo ci facciamo un abbraccione lungo lungo e vedrai che dopo perdoni tutto tutti hanno bisogno di caldi abbracci poi ragazzi io ho fatto il possibile faccio il possibile per per indagare questi argomenti per scoprire per portare una carezza con i miei libri per portare un sorriso ovviamente non sono un profeta non sono nessuno non sono faccio quello che posso faccio quello che la mia vita mi consente e che le mie capacità mi consentono per arrivare così a portare un sorriso alle persone e io credo io credo che ci sia che ci sei riuscito che ci sei riuscito Ivan questa sera perché questo la vita mi porta veramente a tante sorprese l'altro anno andavo in Texas a Giubitale quest'anno vado in Uganda l'anno prossimo chissà dove mi porta anzi ti porterai in un posto bellissimo sicuramente ho la batteria che si sta scaricando sì siamo in chiusura siamo infatti siamo siamo anche in chiusura io Ivan ti ringrazio davvero di cuore invito le persone invito le persone a rimanere collegate ancora qualche attimo i commenti ovviamente li potete ancora postare potete continuare o per parlare di gratitudine o per il libro nuovo che esce tra 20 giorni ok ok sì sì poi io e te ci sentiamo con calma certo se vuoi dirlo sì volentieri è la prima volta che lo dico pensa non lo sa nessuno wow esclusiva si chiama sì in esclusiva per voi si chiama 10 grammi di felicità ok grazie quindi sarà Gio Vitale e sarà un libro con Gio Vitale quindi molto molto interessante è un libro dolce fantastico allora io grazie a tutti per avermi ascoltato un abbraccio ciao a tutti ecco io io invito Ivan resta ancora un attimino invito a prendere il libro di Ivan lo trovate il link lo trovate nella descrizione di questo video io ve lo posto anche nei commenti quindi lo vedrete tra qualche attimo ovviamente sono raccontate più in dettaglio le storie esattamente esattamente poi altri esempi di perdono e altre storie molto belle oltre ovviamente alla mia parte esattamente io adesso mi metterò di impegno con con Ivan per organizzare anche un'altra serata dedicata alla gratitudine quindi vi invito a rimanere connessi connessi e vi invito anche a condividere questo video insomma se la storia di Ivan vi è piaciuta continuate a commentare e in modo tale che poi noi possiamo interagire con voi anche nei prossimi giorni Ivan ancora grazie di essere stato qui ciao un abbraccio ci vediamo presto buonanotte a tutti gli amici in diretta e buona giornata invece a chi ci sta ascoltando in in differita grazie a tutti di aver partecipato un abbraccio grazie a tutti Grazie a tutti